Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gera Dopo il video di qualche settimana fa dove vi mostravo le mie tattiche del 4231 Adesso vi vado a mostrare le tattiche del 442 che sto utilizzando in questo periodo alternato a quel 4231 Quindi quest'oggi ci concentreremo solo su questo modulo, vi spiegherò come lo uso, cosa faccio in caso di svantaggio, cosa faccio in caso di vantaggio, eccetera eccetera Comunque questa è la mia squadra che sta praticamente aspettando l'arrivo di CR7 TOTS Che visti gli ultimi premi non ho accumulato molto, mi sto dedicando alla compravendita e speriamo di far bene Nel TOTS garantito della Serie A ho trovato Scesni, mentre nel TOTS delle divise e del campionato CSL ho trovato un 84 Quindi mi è andato un po' male, comunque per ora tiriamo avanti con questa squadra, vediamo dove possiamo arrivare E adesso andiamo al punto fondamentale di questo video, ovvero le tattiche del 442 Allora, ecco qui le tattiche del 442, adesso ve le spiego, vi spiego come uso io questo modulo Mi raccomando, le tattiche sono molto soggettive, quindi se volete prendere spunto per testarle a me fa piacere Però mi raccomando, dovete solo testarle, non vuol dire che se le uso io vanno bene i condutti e se mi ci trovo io mi ci trovate anche voi Può darsi che tra qualcuno di voi c'è chi si riesce a destreggiare con queste tattiche Ok, partiamo dalle basi, quindi stile difesa equilibrata 5-4, quindi un'ampiezza neutra, quindi bella scuola compatta al centro, non è troppo lagga, non è troppo stretta Con un 4 di profondità, che mi garantisce di essere un po' più attendista, però al punto giusto switchare e essere aggressivo Perché non è proprio un 2 o un 3, quindi col 4 siete un po' più avanzati Ho provato anche a difendere a 6 e a 7, però col 4-4-2, raga, la profondità elevata vi potrebbe mettere in difficoltà Soprattutto se non sapete switchare Per questo sto preferendo avere il 4 perché capita con la partita in cui lo switcher lo prende e preferisco stare coperto dietro Stile attacco equilibrato, con un'ampiezza elevatissima Qui io metto 8, vario dal 7 all'8 semplicemente perché mi piace avere la squadra molto larga, col 4-4-2 E sfruttare l'esterno per bucare praticamente il terzino avversario Quindi con queste tattiche, gli esterni stanno molto larghi O gli do anche l'istruzione di giocare largo, quindi stanno praticamente attaccati alla linea di fondo quasi E quindi riesco a comunicare bene con loro, riesco a lanciare e chiamare Quindi è il gioco che mi piace fare maggiormente Poi abbiamo giocatori in area 4 perché pur semplicemente un 4-4-2 Tendo a tenere i cc non troppo offensivi perché in caso di contropiede voglio stare coperto Quindi per questo ho il 4 Angoli 2, punizioni 2, potete mettere anche 1-1 Praticamente la stessa cosa perché vi metterà sempre gli stessi giocatori in area Quindi cambia poco e niente O 2-1 e in base alle vostre scelte io ormai metto 2-1 quindi cambia poco Come istruzioni abbiamo inseriscità alle spalle ai due attaccanti Agli esterni rientro in difesa, gioca largo e inseriscità alle spalle Perché mi piace molto che l'esterno viene a dare una mano in fase difensiva Poi il gioca largo perché mi piace che si deve sfruttare l'ampiezza di questo modulo E l'inseriscità alle spalle perché delle volte soprattutto gli esterni che hanno il work rate alto in attacco Con l'inseriscità alle spalle tendono a fare proprio un taglio dietro la difesa E dietro al terzino e quindi riesco a passargliela meglio Però potete anche togliere l'inseriscità alle spalle e gestire voi il tutto con l'L1 e l'R1 Quindi lanciate l'esterno e lo richiamate a voi quando volete che E peraltro un'altra cosa che faccio io perché è molto importante nel 4-4-2 è giocare molto con gli esterni Lanciarli con L1, se vedete che lo è coperto richiamarlo a voi con R1 Quando poi vedete che l'avversario vi sta venendo addosso Quindi vi sta tornando indietro per marcarvi l'esterno, lo rilanciate Molte volte l'avversario poi si trova paesato, non sa che fare Vi trovate praticamente il vostro esterno in corso e il suo terzino in ritardo e quindi potete partire Poi abbiamo i due CC, resta dietro in attacco e copertura al centro Quindi tattiche molto basilari Potete anche fare un'altra cosa, un consiglio che vi posso dare Se vi piace molto girare palle e trovarvi sempre il CDC dietro, quindi un po' più arretrati Potete mettere tranquillamente il resta al limite per il cross Praticamente vi li trovate un po' più indietro, non si inseriscono E vi li trovate sempre lì come punto di riferimento Poi per il resto abbiamo ai terzini, semplicemente resta dietro in attacco Queste sono le tattiche che io utilizzo quando inizio la partita col 4-4-2 Quando sono in svantaggio cosa vado a fare? Quando sono in svantaggio se voglio rimanere a due punte Vado semplicemente, ragazzi vi faccio vedere È veramente una cavolata Alzo l'ampiezza a 8 I giocatori in aria le portano a 7 E faccio questo praticamente Gioco molto più spinto avanti, molto più aggressivo E nelle istruzioni Non vado più a mettere il rientro in difesa agli esterni Ma gli metto il rimani avanti Gli metto il rimani avanti ai due esterni E al terzino un po' più tecnico In questo caso questi due non sono tecnici Quindi non lo faccio Al terzino più tecnico gli dico di Avere un attacco equilibrato Quindi lo faccio essere un po' più offensivo Questo è semplicemente quello che faccio Quando sono in svantaggio Quando sono in vantaggio E voglio mantenere il risultato Di solito switch a 4-2-3-1 Però Se sono confident con questo modulo E voglio portare a termine la partita Con questo modulo difendendo Vado semplicemente a impostare il ripiega Così la squadra ha un assetto più difensivo A tendista Rimango il 5-4 Quindi lascio invariato qui L'ampiezza la vado un po' a abbassare Per avere la squadra un po' più stretta Quindi sarebbe bello combatto al centro E metto praticamente 3 giocatori in aria Quindi faccio in modo che la squadra Non salga troppo Quindi rimango schiacciato E nelle istruzioni Vado a mettere a tutti Anche agli attaccanti I derienti in difesa Quindi faccio in modo che tutta la squadra Sta combatta dietro a stile bunker Perché ragazzi se la volete portare Alla vittoria della partita Con questo modulo dovete fare così Questo è tutto quello che avevo da dirvi Su come utilizzo io il 4-4-2 Le tattiche che utilizzo Qui là vedremo se vi porto le tattiche Anche di qualche altro modulo Perché sto testando delle tattiche nuove Giusto per cambiare un po' stile di gioco Quindi ho riprovato il 4-2-2-2 Il 4-4-2 con il cdc Che è molto simile a questo Addirittura ho provato il 4-3-2-1 Quello con gli attaccanti un po' più stretti Diciamo che sto variando un po' Visto che siamo a fine FIFA Volevo cambiare un po' il modo di giocare Quindi eventualmente Se vi fanno piacere questi video Ve li porterò Fatemi sapere qui sotto nei commenti Se proverete queste tattiche Come vi trovate Mi raccomando fatemi sapere tutto Lasciatemi i vostri feedback Mi raccomando ricordatevi che Le tattiche sono soggettive Però testarle non fa mai male Provatele in amichevole Con qualche amico e rivals E poi vi buttate un weekend di Dic Se volete Lasciate un mi piace Condite e iscrivetevi al canale Noi ci si becca al prossimo video Passate dai link in descrizione Un saluto da Gera Ciao